Ampliare gli orizzonti. Questo fanno le nostre crociere. Anche per questo espandiamo costantemente i nostri itinerari in Europa, offrendoti più di 100 destinazioni, dall'Islanda all'esotica Turchia, la Porta dell'Est. Potrai navigare tra le isole britanniche e dominare la rocca di Gibilterra, visitare la Cattedrale di San Patrizio in Irlanda, seguire il circuito del Gran Premio di Monte Carlo e spassartela al Nizza e in Costa Azzurra. E perché no, scegliere la costiera amalfitana, la pittoresca Positano, l'affascinante Capri. E non è che l'inizio. A fianco di una crociera in Europa con Royal Caribbean, puoi scegliere il tuo pacchetto pre- e post-crociera ed esplorare ancora meglio i luoghi in terraferma. Ti troverai a Piccadilly Circus ed in altri siti storici di Londra. Visiterai Notre Dame, la Torre Eiffel e l'Arc di Triomphe a Parigi. Scoprirai tutta la Barcellona da non perdere. Navigherai nei canali di Venezia. A riscoprire Firenze e Roma. Un pacchetto combinato Royal Caribbean è il modo migliore per entrare in contatto con la storia, la cultura e l'architettura di tante parti d'Europa. Il fascino del vecchio mondo in uno stile nuovo. L'Europa con Royal Caribbean è l'esperienza che non è ancora provato.